Grazie per l'invito, mi chiamo Angelo Rindone, come detto sono il fondatore di Produzioni dal Basso, una delle prime piattaforme italiane, europee, quasi nate al mondo di crowdfunding. Noi siamo nati tra il 2004 e il 2005, quindi in un periodo in cui non solo non c'erano ancora i social network come li conosciamo e le persone non utilizzavano la rete nel modo in cui la utilizzano adesso, ma non esisteva neanche il termine crowdfunding, non esistevano le grandi piattaforme internazionali come Kickstarter o Indiegogo. Noi abbiamo messo in piedi una piattaforma internet per le autoproduzioni in maniera assolutamente sperimentale, poi a un certo punto è successo che il crowdfunding è diventato un vero e proprio fenomeno, cresciuto intorno al 2008-2009, è stato inventato questo termine, questo neologismo, che significa finanziamento dal basso, finanziamento dalla folla fondamentalmente, e ultimamente in Italia il crowdfunding è entrato un po' nella discussione, sia politica che giornalistica, proprio in relazione alla normativa recente della Consob. Cioè la Consob in Italia ha per la prima volta al mondo normato quello che si chiama equity crowdfunding, il crowdfunding per le aziende, il crowdfunding in particolare per le start-up innovative, perché la normativa della Consob è focalizzata per l'equity crowdfunding sulle start-up innovative. È un'invenzione molto recente ed è soprattutto una sovrastruttura ancora al crowdfunding, che ancora non ha espresso piattaforme, progetti, ancora non esiste una case history seria sull'equity crowdfunding, proprio perché è normato da poco in Italia quest'estate e in discussione nella SEC, quindi nel job act americano, in discussione in Inghilterra che farà una normativa ad hoc, quindi è ancora, come dire, siamo in una fase sperimentale di questa forma di crowdfunding. Il crowdfunding vero, quello che conosciamo, quello che probabilmente conoscete tutti quanti, è in realtà un'altra modalità di crowdfunding che si chiama reward crowdfunding, cioè quello di Kickstarter per intenderci, o quello di Indiegogo prima citato, è reward. Che cos'è il reward crowdfunding? Il reward crowdfunding è una forma di crowdfunding che si basa su una donazione in cambio di una ricompensa, cioè in pratica ci sono queste piattaforme online che permettono di mettere a utenti di qualsiasi forma e tipo, quindi anche progetti di qualsiasi forma e tipo, di mettere dei progetti online e raccogliere donazioni sul proprio progetto. In cambio di queste donazioni i progettisti, gli utenti, danno delle ricompense adeguate. Vi faccio un esempio banalissimo. Ricompense che possono essere sia di tipo fisico, di tipo pratico, di tipo di prodotto, oppure ricompense di tipo emotivo. Piano piano con, come dire, il migliorare delle piattaforme, degli strumenti, con il crescere dei social network, l'utilizzo dei social network in maniera più massiva, piano piano il focus si è spostato sui progetti di tipo culturale. Quindi il secondo step del crowdfunding reward è stato progetti di tipo culturale. E quindi sono cominciate ad arrivare case editrici, scrittori, registi e chi più ne ha più ne metta, insomma. E anche lì sono cominciate a nascere dei progetti anche molto importanti. I numeri del crowdfunding nel mondo parlano di 2,5 miliardi di dollari nel 2012 e di stimato, ma forse superato, 5,7 miliardi di dollari nel 2013. Quindi anche i numeri che cominciano a farsi importanti, partendo dal presupposto che si tratta sempre di progetti che hanno piccolissime donazioni da parte di utenti online che mettono piccoli pezzettini del budget. Piano piano si è cominciato a capire che questo meccanismo del progettualità online e coinvolgimento delle folle, delle moltitudini attraverso i social network, poteva diventare una potente risorsa di mercato. Ed ecco che piano piano nel reward crowdfunding sono arrivate le start-up. Sono arrivate le start-up di prodotto, le start-up di azienda, le start-up di ristoranti, le start-up di tipo anche di crowdfunding civico, quindi organizzate territorialmente magari dalle amministrazioni comunali, eccetera. Un gruppo di ragazzi che stava lavorando su una start-up di prodotto per una stampante 3D chiamata Faptotum, a un certo punto prende quel prototipo, quel progetto, quell'idea e la mette su una piattaforma di reward che si chiama Indiegogo, che tra l'altro non è neanche all or nothing ma è keep it all, cioè in pratica puoi portarti via tutto anche se non raggiungi il budget. La mette online e richiede circa, mi sembra se non sbaglio, 300 mila dollari. Arriva a raccoglierne 500, quasi 600 mila dollari, quindi un vero e proprio record europeo. E che cosa fa attraverso questa operazione? È molto semplice, prevende delle stampanti. Cioè in pratica loro in fase di start-up hanno già fatto prevendita di prodotto, hanno venduto centinaia di stampanti nel mondo. E hanno scoperto anche nel farlo che il mercato più interessante per loro era un mercato di tipo anglosassone americano, perché le stampanti se ne sono comprate in particolare dall'altra parte dell'oceano. fa una ricerca di mercato, cioè scopre che il prodotto, il prototipo su cui stavano lavorando interessa, piace, piace perché ha un bel design, piace perché in quel momento c'è richiesta di quel tipo di stampanti da appartamento un po' piccoline a un prezzo accessibile, eccetera, eccetera. Fa un, anche se vogliamo, un'operazione quasi di crowdsourcing, cioè ovvero attraverso la piattaforma di crowdfunding le persone non solo ti danno, ne so, i 100 dollari per comparsi, i 500 dollari, i 1000 dollari per comparsi la stampante, ma magari ti danno dei consigli, ti scrivono dei commenti, intervengono in qualche modo all'interno del tuo progetto con un feed. Ed è qui che entra l'equity crowdfunding, cioè a un certo punto si comincia a parlare di crowdfunding in equity, cioè ovvero qual è la differenza tra reward? La differenza sostanziale è che anziché una donazione in cambio di una ricompensa, il crowdfunding di equity prevede una partecipazione azionaria, cioè in pratica nel crowdfunding equity non si dona, ma si investe in una società, quindi di fatto si comprano delle quote di società. Ed ecco perché l'equity crowdfunding, che di fatto è raccolta di pubblico risparmio, richiede una norma ad hoc. Mentre il reward non ha bisogno di essere normato, bene o male, nelle legislazioni di tutto il mondo ci sono, per esempio in Italia, si parla di donazione modale da un punto di vista legale, e quindi già ci sono, come dire, le scappatoie legali per poter indirizzare in maniera, come dire, finanziaria o comunque amministrativa un tipo di progetto in reward. Nel caso dell'equity, che di fatto è una raccolta di pubblico risparmio, ci vuole la norma per poter raccogliere appunto il pubblico risparmio, per poter permettere a un SRL, ad esempio, di raccogliere quote da parte di privati cittadini online. La domanda vera che, secondo me, dobbiamo farci, che io vi rimbalzo in questo mio panel, è se realmente il crowdfunding equity è il crowdfunding per le start-up innovative, soprattutto per le start-up che stanno nascendo, soprattutto per le start-up che ancora sono lì, che devono prototipare, che ancora sono lì, che stanno in qualche modo facendo sit sul loro prodotto, quindi stanno ancora cercando dei finanziamenti iniziali per partire. A mio modo di vedere, probabilmente no. Perché? Primo perché c'è il reward, che abbiamo visto può essere un buon sostitutivo. Certo, nel caso di una start-up di prodotto è più facile, nel caso di una start-up di servizio possiamo discutere, nel caso di altri tipi di start-up può essere molto difficile. Però, obiettivamente, stanno nascendo delle situazioni in ambito di reward che permettono, e soprattutto se tu sei bravo a comunicare, di poter comunque lavorare attraverso il reward in questa cosa. Ma, in seconda battuta, io credo che sia davvero rischioso in fase di partenza per una start-up mettersi a confronto con dei soci o dei crowd-soci, in questo caso, che vengano al tuo tavolo e che magari un domani possono anche decidere o intervenire all'interno della start-up. Nonché per i crowd-soci diventa abbastanza difficile valutare una start-up in fase di partenza e capire se potrà realmente quella quota che viene messa diventare realmente fruttifera oppure no, se quei soldi andranno persi. E poi c'è un'altra ragione. Il crowd-funding, se ci pensiamo, è fondamentalmente una sovrastruttura del social networking, cioè, fatto salvo il fatto che oggi tutti con uno smartphone, un telefono, un computer, eccetera, possono uploadare contenuti, possono comunicare in maniera disintermediata, possono mettere un video, un testo, una foto, eccetera, eccetera. Cioè, fatto salvo il social networking, è chiaro che il crowd-funding è quella cosa che in qualche modo crea una sorta appunto di sovrastruttura di tipo economico. Cioè, fino ad oggi noi il social networking li abbiamo usati per dire che bella la tua foto, mandami che bella il tuo video, oppure ti seguo, che ne so, su Twitter, o per condividere delle informazioni, perché a quel punto questa possibilità massiva di comunicare non possa venire anche utilizzata per creare progettualità, finanziarla e realizzare delle cose? Il crowd-funding fondamentalmente è quello, cioè utilizzare la struttura che si è creata di condivisione del social networking per creare progettualità. Il reward crowd-funding, in qualità di sovrastruttura del social networking, sappiamo che sta funzionando, sappiamo che sta generando numeri, sappiamo che sta crescendo e sappiamo che può essere uno strumento per le start-up, anche per le start-up che stanno iniziando adesso, anche per start-up, come dire, non particolarmente ben organizzate, però magari capaci di comunicare, capaci di innestarsi in una comunicazione virale. L'equity crowd-funding, a mio modo di vedere, è qualcosa di più complesso, è qualcosa che un po' si stacca a livello proprio di, dai social networking, ed entra in un ambito più finanziario, e quindi anche il tipo di target, e anche il tipo di progetti probabilmente saranno diversi. E questo lo dice anche la SEC in America, che sta discutendo sull'equity, e che già preventiva mercati diversi, si parla per esempio del mercato immobiliare, si parla del mercato delle reti energetiche, si parla delle piccole e medie imprese, si parla dei negozi piuttosto che dei ristoranti, cioè noi dobbiamo, a mio modo di vedere in Italia, che abbiamo una norma che non è neanche fatta male, abbiamo fatto un panel qualche tempo fa con due avvocati che ne hanno parlato, la norma ha anche delle cose molto interessanti al suo interno, ma focalizzarla sulle start-up innovative può essere veramente sprecare un'occasione, tra l'altro un'occasione che in questo momento e per la nostra economia potrebbe essere interessante. Quindi il mio consiglio, ne approfitto di questa sede, è dire l'equity crowdfunding è qualcosa di interessante, è qualcosa di diverso, di completamente diverso dal mondo del reward, forse parla ad un altro tipo di linguaggio, ad altri tipi di utenza, e forse è anche giusto che cominci a rivolgersi e si rivolga a mercati di tipo diverso. E con questo chiuso, grazie. Grazie.